Non importa di quanti metri è, non importa di quanti lucchetti è composta, tanto non è mai stata pensata una cosa di questo genere, è mai realizzata. Mestre è una città particolare, ha già i suoi record, prima di tutto è una città che non ha una sua autonomia pur avendo 180, 190 mila abitanti e poi è una città che ha un problema molto grosso, è una frazione attualmente di Venezia e tanta luce può fare tanta ombra, per cui è una città in ombra, è una città denigrata, è una città che ha bisogno di un suo momento d'orgoglio e comunque come tutte le cose si inizia da piccole cose per arrivare poi alle grandi e noi speriamo di arrivare alle grandi. Io personalmente ho un sogno, ho un sogno ed è quello di realizzare, di dare a Mestre una sua identità culturale importante e artistica, di fare una piccola Berlino. C'è riuscita a Berlino con tutti i suoi problemi, potrebbe riuscirci anche Mestre. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie mille, grazie a tutti.